La Giunta regionale approva e pubblica sul sito la prima delibera dell'anno, le elezioni dei liberi consorsi comunali, all'apposto delle province, il 26 febbraio. Irene Milisenda. Adesso è ufficiale. A meno di intoppi, la Giunta regionale ha fissato per il 26 febbraio prossimo la data delle elezioni dei liberi consorsi comunali che hanno sostituito le province. Infatti è stata pubblicata sul sito della Regione la deribola dell'Aggiunta regionale numero 1 dell'11 gennaio 2017, con cui è indetta le elezioni dei vertici dei liberi consorsi per domenica 26 febbraio 2017. La riforma in Sicilia ha progettato sei liberi consorsi al posto delle province di Agrigento, Trapani, Enna, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, e poi tre città metropolitane, Palermo, Catania e Messina. Al vertice dei sei liberi consorsi sarà eletto un sindaco del territorio in cui ricade lo stesso libero consorzio e gli altri sindaci convongono il Consiglio. A votare saranno solo i consiglieri comunali del comprensorio, invece a capo delle città metropolitane è nominato di diritto il sindaco del capoluogo e poi saranno eletti i consigli. In provincia di Agrigento saranno alle urna circa 750 grandi elettori tra consiglieri e sindaci, con il meccanismo delle elezioni di secondo grado, in base al voto ponderato attribuito ad ognuno di esse. Entro il prossimo 27 gennaio dovrà essere pubblicato l'elenco degli elettori, cioè i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei 43 comuni della provincia di Agrigento. Il termine per la presentazione delle candidature a presidente del libero consorzio o per i 12 componenti del Consiglio è stato fissato dalle ore 8 del 4 febbraio alle ore 12 del 5 febbraio. Il termine ultimo per la costituzione del seggio elettorale è stato stabilito per il 16 febbraio. La normativa regionale prevede che sono candidabili a presidente del libero consorzio comunale i sindaci del comune appartenenti allo stesso libero consorzio comunale. Non sono candidabili i sindaci sospesi di diritto dalla carica e altrettanto non potranno votare i consiglieri qualora sospesi.